Ciao a tutti ragazzi, siamo su Gran Turismo Sport e questa volta andremo a farci un circuito rally, cioè Colorado Springs Lago. Allora, con il circuito rally che faremo questa volta però voglio scegliere... scegliamo giorno innanzitutto, scusate... voglio scegliere la Focus... no, stavo pensando... sì, andiamo a scegliere la Focus Rally Car, perfetto. Ok, siamo pronti. Cambio automatico, mettiamo livello massimo, questa volta però questo tracciato me lo voglio fare in visuale in terza persona, voglio vedere com'è da visuale in terza persona per una gara di rally, soprattutto perché voglio vedermi un po' la vettura a vedere innanzitutto se si sporca, perché non sappiamo neanche se si sporca a questo punto. Ok, direi che siamo quasi pronti per scendere in pista. Inizia la gara. Siamo pronti. Eccola, eccola, eccola! Abbiamo qui davanti a noi l'Audi 4, la mitica Audi 4 ragazzi. Attenzione. Mamma mia se va sta macchina. Anche l'Audi 4 non scherza proprio per niente. attenzione. Eccola qui, che ci avviciniamo sempre più, però non è detto che se ci avviciniamo riusciamo comunque a sorpassarlo perché è sempre un casino in modalità rally ragazzi. Oppala. Primo cuccio contro lo steccato ragazzi. Numero. Ci stiamo avvicinando sempre più. Attenzione, attenzione! Eccoci qua. Il sorpasso. Vediamo se riusciamo a mantenere la prima posizione ragazzi perché sorpassare ok ma mantenere questa posizione in questi circuiti è un po' difficilotto. soprattutto perché non conosciamo ancora benissimo il tracciato e ci stiamo affidando semplicemente a le stupende iconcine che ci dicono la traiettoria da intraprendere. Poi ragazzi quando andremo a... quando avremo più esperienza sul circuito, sui vari circuiti visto che comunque non sono tantissimi, andremo a togliere definitivamente queste iconcine per... per rendere il realismo... per renderla più reale possibile. Attenzione! Ci prova! Ci prova ragazzi! Ci prova e ci riesce più che altro. Lo spaziamo via così. Oh cacchio! No! No! Non ci voleva ragazzi! Non ci voleva! Attenzione! Voglio vincere la sta gara cacchio! Nooo! Brutta cosa ragazzi! Nooo! Bruttissima! Ormai mi sa che l'abbiamo persa ragazzi! L'abbiamo persa! Purtroppo l'abbiamo persa ragazzi! Ci manca l'ultimo giro no? Possiamo ancora farcela! Però dobbiamo evitare di fare errori! A differenza di quel circuito in Giappone che vi ho fatto vedere che riusciamo a fare una gara senza frenare ecco in un tracciato come questo è impossibile perché ci parte in testa coda continuamente sbattendo contro gli ostacoli, contro i muretti No! Non voglio sbatterti contro! Mannaggia! Ecco! Lo sento dietro! Dietro di noi ragazzi! No! Che bastardo! Mi sta fregando all'ultimo ragazzi! Mi sta fregando all'ultimo! Mi sta fregando all'ultimo! Mannaggia! No! Chiudiamo le porte! Non vogliamo farci passare all'ultimo momento! E vogliamo vincerlo questo tracciato ragazzi! Vogliamo vincerlo! Eccoci che siamo bandiera scacchi! E vinciamo questo match contro l'Audi 4! Grandissima macchina! Spettacolare! Ma ce la facciamo! Con la Focus Rally Car! Mamma mia! Altri soldoni! Mi sa che siamo arrivati al livello numero 10 ragazzi! Sì! Livello numero 10! Livello pilota 10! Aumentato! Ok! Andremo a vedere che cosa poi comporta tutto questo! Andiamo a vederci due secondi di replay! Per vedere la vettura in azione! Bellissimo! Mamma mia! Questo ragazzi sarebbe bellissimo giocarlo! Col VR! Visuale all'interno! E sedile pedaliere volante! Sarebbe il top proprio! Guardate che figata! Bellissimo! Veramente bello! Ok! Passiamo a un'altra gara ragazzi! Facciamoci un'altra garetta! Allora! Usciamo da qui! Io... Auto Arcade Suzuka! Cacchio Suzuka ragazzi! Bellissimo! Comunque! Gara singola! Visto che siamo in tema rally! Ci andiamo a fare! Colorado Springs 2! Sempre con... Di giorn... No ragazzi! Facciamo una cosa! Facciamola diversa stavolta! Facciamolo di notte! Di notte! Sempre con la Ford Focus Rally Car! Automatico! Mettiamo ricompensa alta! Perché vogliamo farla difficile ragazzi! Questa volta... Oh! Sempre la Sport 4 abbiamo come avversario! Sempre l'Audi Sport 4! E cambiate ogni tanto! Porca miseria! Sempre lo stesso tipo di avversario! No! Comunque! Vabbè! Siamo pronti! Siamo pronti per scendere in pista! Attenzione! Inizia la gara ragazzi! Cerchiamo di farla più pulita possibile stavolta! Cerchiamo eh! Eccolo eccolo che stavolta ci usa da sponda! Siamo pronti per scendere! Comunque siamo sempre molto vicini eh! Il che non è male! No! scusami non l'ho fatto apposta però visto che ci sono ormai rimango davanti perlomeno ci provo terapattona ragazzi grazie siamo all'ultimo giro dobbiamo stare attenti perché comunque ce l'abbiamo qui dietro qui vicino ragazzi attenzione numero mi sa che è dietro di noi ragazzi vedo i suoi fari ogni tanto eccoci qui ragazzi traguardo ci siamo giudicati un primo posto e abbiamo vinto anche su quest'altro tracciato gara singola springs colorado perfetto ok ci aggiudichiamo altri bei soldoni il livello 10 lo stiamo portando avanti vediamoci un piccolo un piccolo replay di un attimo ragazzi che voglio vedere un attimo che grafica c'è notturna bellissima guardatela veramente bello mamma mia veramente stupendo guardate qui che bello ok va bene vanno le ciance prossima volta ragazzi penso di continuare il discorso patenti perché dovevo andare avanti vorrei cominciare a farmi anche la modalità gran turismo perché sennò qui ragazzi stiamo sempre a fare roba arcade e niente grazie a tutti per il vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti